Vorrei parlarvi dell'impatto differenziale che le crisi a cascata che stiamo vivendo hanno sulla popolazione immigrata da un lato e sui nativi dall'altro. Un impatto differenziale che potremmo anche definire oggettivamente discriminatorio, nel senso che le famiglie, le persone con un retroterra di immigrazione soffrono di queste crisi in maniera maggiore, sistematicamente maggiore, di quanto avvenga con noi che siamo nati qui, per lo più da persone nate qui. Quando dico crisi a cascata intendo le crisi di origine diversa che si sono susseguite nell'ultimo decennio, a partire dalla grande recessione, dalla crisi del debito pubblico di dieci anni fa che però ha avuto strascichi lunghi, alcuni dei quali persistono ancora, seguita poi dalla crisi scatenata invece da fattori sanitari, dalla crisi legata alla pandemia che ha avuto come sappiamo ricadute occupazionali molto pesanti e infine la crisi innescata dalla guerra, dall'invasione russa in Ucraina con le conseguenze che sta avendo sul potere d'acquisto e su numerosi altri fattori. Tutte queste crisi in successione in cui effetti si accumulano generano a valle quella che potremmo definire una crisi dell'integrazione sociale, del nostro tessuto sociale e in particolare dell'integrazione delle minoranze di origine immigrata. A fronte di questa crisi di integrazione o di questi processi di deintegrazione, come si potrebbero definire, vedremo che c'è una carenza sistematica di risposte, di risposte politiche, una carenza di consapevolezza e quindi un impatto particolarmente pesante sui territori, sulle autorità locali, sui servizi locali, delle zone a maggiore concentrazione di popolazione immigrata dove questi effetti differenziali si vedono. Partiamo quindi dal primo grande trauma, shock esogeno, quello di dieci anni fa quando la crisi finanziaria iniziata oltreoceano negli Stati Uniti arriva da noi e si traduce in una drammatica crisi del debito pubblico, della capacità dello Stato di far fronte ai suoi impegni e alle sue missioni. Quella crisi ebbe in maniera nettissima un impatto più forte sulla popolazione di origine immigrata e determinò un cambiamento del profilo dell'immigrazione in questo paese. Si generò sostanzialmente un congelamento degli ingressi per lavoro e il grosso degli ingressi da allora sono per motivi familiari o per motivi umanitari, quindi per richiesta d'asilo in cerca di protezione. Sull'arco di un decennio questo cambiamento del profilo dell'immigrazione ha determinato una trasformazione profonda della composizione della popolazione immigrata in questo paese che è in misura minore composta da lavoratori e lavoratrici e in misura maggiore composta da familiari richiedenti asilo che come sappiamo hanno un lungo periodo di difficile adattamento al mercato del lavoro. Una conseguenza chiara e drammatica è il crollo del tasso di occupazione tra persone stranieri in questo paese dal 65% nel 2008, che era un tasso particolarmente alto anche in una prospettiva europea, al 61% nel 2019. Quindi un numero sempre decrescente di persone immigrate ha un lavoro. Su questa base arriva la pandemia che aggrava la situazione. Se nel primo anno della pandemia l'occupazione degli italiani cala di poco meno del 3%, l'occupazione degli stranieri cala di più del 10%. Se l'inattività tra gli italiani cresce dell'8%, cioè aumentano dell'8% gli italiani che non provano nemmeno più a cercare un lavoro, tra gli stranieri questo tasso esplode, cresce del 30%. Anche in questo caso la popolazione straniera di origine immigrata fa da cuscinetto, assorbe il trauma della crisi evitando che questo trauma si concentri sulla popolazione nativa. Quindi oggettivamente la popolazione immigrata protegge la popolazione nativa dall'impatto della crisi. Tutto questo ha ripercussioni immediate fortissime sulla povertà, la povertà assoluta tra le famiglie composte interamente da italiani, cittadinanza italiana. Dal 2019 al 2021 cresce moderatamente dal 4,9% al 5,7%, tra gli stranieri cresce in maniera più marcata, partendo da un livello già altissimo, dal 24,4% al 30,6%. Oggi quasi una famiglia straniera su tre è in condizioni di povertà assoluta. La guerra, la crisi geopolitica drammatica dell'ultimo anno, arriva ancora, si sovrappona agli effetti delle crisi precedenti, arriva a peggiorare ulteriormente la situazione, per ora soprattutto a causa dell'inflazione, la crescita del prezzo, dei beni primari, del cibo, dell'energia viene naturalmente sofferta di più da chi ha meno e quindi deve spendere una quota maggiore del proprio reddito per queste necessità primarie, di scaldarsi e nutrirsi. E questo non solo qui ma anche nei paesi d'origine, in particolare il Nord Africa, zona d'origine di una componente importante, molto importante della nostra immigrazione, dove come sappiamo la dipendenza alimentare dall'estero, in particolare dal grano ucraino e russo, fa sì che sia in corso una crisi alimentare a fronte della quale il bisogno di rimesse sarebbe sempre maggiore, cioè servirebbero rimesse importanti, più importanti dall'Italia che però, dall'Italia e dagli altri paesi di immigrazione, che però difficilmente arrivano. Tutto questo è oggetto di una profonda rimozione nel dibattito pubblico, la sofferenza maggiore delle popolazioni di regia immigrata non è oggetto di riflessione, mancano risposte mirate, il reddito di cittadinanza sappiamo era stato adottato con una clausola fortemente discriminatoria nell'accesso, almeno dieci anni di residenza, che escludeva e ha escluso di fatto la maggior parte delle famiglie bisognose di origine immigrata e oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, non menziona proprio l'immigrazione, non menziona proprio la priorità legata all'integrazione delle famiglie immigrate. Ci troviamo quindi di fronte a una svolta, a una trasformazione epocale nella composizione della società italiana, che si avvia e anzi da anni è sempre più segmentata su basi etniche. L'origine, il colore della pelle, il luogo di nascita proprio o dei genitori sono predittori sempre più efficaci, sempre più ineluttabili di disagio, esclusione e povertà. A fronte di questa tendenza e a fronte della mancanza di assunzione di responsabilità da parte dei livelli politici nazionale e europeo, il peso della gestione di questa crisi di fatto di integrazione è sempre più, grava sempre di più sulle società locali, sulle amministrazioni e sui servizi a livello locale. Ed è questa una ragione per cui un progetto come SOFIA, che vuole mettere in rete gli operatori, i servizi, gli amministratori locali che lavorano su questi temi, favorire il coordinamento, migliorare le sinergie è un progetto di grande importanza.